voci della chiesa iblea un programma della redazione di radiocaris in blu ragusa carissimi amici che siete in ascolto un cordiale saluto a voi tutti da vincenzo la cognata e ben trovati in occasione dei cento anni dalla riapertura della chiesa di san giuseppe annessa al monastero delle benedettine in ragusa ibla abbiamo il piacere di avere con noi studio padre salvatore mallemi oblato del monastero delle benedettine dell'adorazione perpetua del santissimo sacramento io saluto e ringrazio padre salvatore per essere qui con noi un caro saluto a tutti gli ascoltatori padre salvatore quando nasce l'ordine delle suore benedettine l'ordine delle suore benedettine dell'adorazione perpetua nasce a metà del 1600 ad opera di una mistica francese madre metilde de bar che nel 1653 diede inizio alla adorazione perpetua del santissimo sacramento questo grazie a un voto fatto anche dalla regina di francia la quale appoggiò l'opera della madre metilde e permise di poter fondare una congregazione in un'epoca nella quale questo non era permesso il sogno di madre metilde era quello di dar vita ad un istituto religioso dedito alla riparazione e del santissimo sacramento ovvero alla preghiera in riparazione di quei peccati che vengono compiuti nei confronti della eucaristia dicevamo che ricorre l'anniversario dei cento anni dalla riapertura della chiesa di san giuseppe la struttura come è nata e a chi è dovuto la chiesa di san giuseppe è stata fondata nel 1599 dal barone di buxello il quale aveva ricevuto un miracolo da san mauro abate ovvero la guarigione del figlio e aveva fatto voto di fondare nella città di ragusa un monastero di monte vergine ovvero appunto di monache benedettine per cui grazie a questo voto si diede origine al monastero attuale che ebbe vita fino alla soppressione voluta dal regno d'italia del 1866 nonostante questo però la vita monastica continuò in sordina grazie anche all'opera del canonico gabrile tumino presso i locali della batiula all'epoca dei locali vicino all'attuale chiesa di san giorgio e solamente nel 1924 si poté riprendere la vita monastica all'interno della chiesa di san giuseppe però con una nuova aggiunta quella della riparazione eucaristica perché quando fu riaperta la chiesa si insediò una comunità di benedettine dell'adorazione perpetua del santissimo sacramento se volessimo parlare delle figure più importanti che hanno contribuito alla nascita dell'ordine tra vescovi sacerdoti laici religiose chi è che ha fornito i contributi ecco più rilevanti credo che la figura più significativa sia stata suor geltrude tumino una ragusana chiamata dal signore nel 1909 ad essere strumento della ripresa della vita monastica dell'osservanza benedettina nel monastero di san giuseppe la vita di sor geltrude tumino è una vita molto particolare e fra l'altro dobbiamo dire che ci fu un intervento diretto della divina provvidenza per la riapertura di questo monastero infatti sor geltrude stava per entrare nel monastero delle carmelitane di ragusa quando le apparve san giuseppe chiedendole di entrare non in quel monastero ma nella sua chiesa sor geltrude non conosceva ancora la chiesa di san giuseppe e si mise alla ricerca di questo monastero fino a quando poi entrata per caso nella chiesa di ragusa ibla capì che quella doveva essere la sua missione però la sua azione in favore della ripresa dell'osservanza monastica non fu semplice anzi fu ostacolata sia dal clero di ibla che dallo stesso arcivesco di siracusa solamente nel 1924 poi finalmente si potè insediare una nuova comunità monastica appunto la comunità monastica dell'adorazione perpetua e un'altra figura rilevante è madre scolastica madre scolastica rinaldi giunse ragusa proprio nel 1924 proveniva dal monastero di sortina ed era stato l'arcivescovo di siracusa a richiedere alla priora di sortino di mandare una monaca capace di instillare nelle novizie nelle postulanti quello spirito monastico tipico della regola benedettina quando la madre giunse a ragusa trovò il monastero in condizioni faticenti tanto che la stessa priora voleva riaccompagnarla con sé a sortino ma ella rimase lì dicendo se dio lo vuole dio opererà e con questa fede si diede da fare per la ricostruzione del monastero per mantenere appunto la preghiera orale e riuscì a risollevare le sorte del piccolo monastero ibleo grazie a lei furono avviati nell'anno successivo già i lavori di restauro dell'edificio cadente e poi già dopo due anni accolse le prime professioni delle benedettine del sacramento era una persona da carattere forte ma anche materno una trascinatrice ma anche una donna capace di grandi sacrifici purtroppo morì improvvisamente nel 43 lasciando però una grande eredità spirituale alle sue consorelle qual è stata l'importanza della vita di clausura padre salvatore nel corso degli anni le monache meledettine di ragusa ibla nel corso degli anni hanno fatto una grande opera di educazione delle nuove generazioni nonostante la clausura hanno avuto la possibilità di gestire sia una scuola per i fanciulli sia poi negli anni successivi un pensionato appunto per l'accoglienza delle persone anziane questo permesso loro di entrare in contatto con tantissime famiglie di educare il più piccolo le nuove generazioni alla preghiera ma di accudire anche gli anziani con spirito di grande amorevolezza le monache si sono distinte anche per l'esempio del lavoro la testimonianza della vita benedettina consiste proprio in questa ora et labora la loro era una presenza costante di preghiera ma anche di lavoro in particolare si sono dedicate al lavoro del ricamo insegnando a tantissime giovani appunto l'arte del ricamo che è una delle peculiarità del nostro territorio ibleo per quanto riguarda il loro contatto con il mondo come si svolge? il contatto con il mondo si svolge attraverso la preghiera e attraverso i rapporti con il mondo esterno alla clausura quindi i colloqui in parlatorio contrariamente a quello che si pensa le monache hanno la possibilità di incontrare i sacerdoti i fedeli laici che vivono al di fuori del monastero nei locali del parlatorio ovviamente senza che però questi incontri turbino il ritmo della vita della comunità è possibile parlare con la madre priora la quale poi si fa portavoce all'interno della comunità delle richieste di preghiera, di quelle informazioni insomma che servono alla comunità la comunità di Ragusa Ibla è stata sempre un luogo cercato per chiedere consigli di vita spirituale ecco le monache in qualche modo sono delle madri spirituali proprio perché donne di spirito aiutano i fedeli laici a vivere secondo lo spirito di Cristo e quindi questi colloqui spirituali nel parlatorio del monastero diventano una ricchezza alle monache che permettono di conoscere e comprendere ciò che si vive al di fuori a coloro che vengono da fuori permettono invece di tornare a casa arricchita della presenza di Dio Quali sono state le iniziative in occasione appunto dei cento anni dalla riapertura della Chiesa? In occasione dei cento anni della riapertura della Chiesa si è svolto un convegno molto interessante nei locali del monastero nei giorni 3, 4 e 5 giugno con la presenza dell'abbate di Praia ma anche di altri relatori che hanno approfondito lo spirito della regola monastica benedettina del Santissimo Sacramento in particolare è stato evidenziato il valore della preghiera di riparazione che è la caratteristica tipica del monastero cioè le monache che non si limitano a adorare Gesù Cristo presente nell'Eucaristia a riconoscerlo lì presente come Signore ma si offrono in qualità di vittime il termine utilizzato è proprio questo in qualità di vittime d'amore al Santissimo Sacramento in riparazione dei peccati che vengono commessi quindi dei sacrilegi, delle indifferenze le monache vivono quindi questa donazione a Gesù e Eucaristia tanto da poter essere chiamate anche figlie del Santissimo Sacramento e il ruolo dei figli è quello di amare e consolare anche i genitori e in questo caso è amare e consolare nostro Signore presente nell'Eucaristia Vi suono ritiri o iniziative per le giovani? Stiamo predisponendo un calendario che però attualmente ancora non è disponibile perché abbiamo iniziato quest'anno centennario appena il mese scorso e non abbiamo avuto il tempo materiale di organizzarci però sono previste alcune iniziative per i giovani che in questo momento non posso raccontare dei momenti culturali e poi anche ovviamente le celebrazioni in qualunque caso ci sarà la possibilità tutti i giorni di poter andare in pellegrinaggio presso la Chiesa di San Giuseppe perché in questa circostanza la Sede Apostolica, la Santa Sede ha concesso un anno giubilare straordinario e per cui visitando la Chiesa di San Giuseppe è possibile ricevere il dono dell'indulgenza plenaria le condizioni sono le solite la comunione, la confessione, la preghiera per il Santo Padre e soprattutto il distacco dalla vita di peccato Padre Salvatore, lei è appunto oblato all'interno del monastero delle Benedettine qual è la sua testimonianza da questo punto di vista? L'oblazione è un dono speciale che il Signore fa ad alcuni sacerdoti o laici i quali si offrono a Dio per mezzo di Maria e entrano in qualche modo a far parte della famiglia del monastero sebbene non allo stesso titolo delle monache, dei monaci un oblato cioè vive nel mondo ma lasciandosi guidare dalla spiritualità della regola di San Benedetto ecco la regola benedettina è una regola preziosa perché ha formato la cultura dell'Europa e non solamente dell'Italia in quanto furono proprio i monaci ad evangelizzare le terre lontane della Gallia, della Britannia e quindi portando l'insegnamento di San Benedetto ora, legge e telabora hanno infuso lo spirito nel Vangelo nella società ecco una regola quindi che non è destinata solo ai monaci o meglio che è per i monaci ma dalla quale possono trarre tanta forza, luce, alimento spirituale anche fedeli laici, religiosi e consacrati in un mondo purtroppo come il nostro in cui spesso si fa fatica nel quotidiano anche nel rapporto che si può avere diciamo con la fede quanto la clausura continua a portare un messaggio importante giorno dopo giorno nelle nostre vite la clausura è un segno importante per noi che viviamo nel caos di questo mondo perché ci ricorda che noi siamo fatti per il cielo e non solo per vivere in questa terra ovvero quell'espressione di Gesù che dice voi siete nel mondo ma non siete del mondo la clausura ci ricorda il primato di Dio sulle cose di questa terra di questo mondo per cui è un richiamo continuo alla preghiera, alla perseveranza all'esercizio delle virtù ci si separa dal mondo circostante per potersi dedicare a Dio e tener lontano quella parte del mondo che non è secondo Dio il monastero da questo punto di vista è luogo di ascesi luogo di purificazione o come diceva San Benedetto da Norcia di conversione dei costumi si tratta quindi di passare dal peccato alla grazia dalla grazia alla virtù dalla virtù alla perfezione ecco è una crescita continua la clausura è uno di quegli strumenti che servono a salvaguardare soprattutto il silenzio e la regolarità della vita monastica che è scandita dal suono della campana che richiama alla liturgia quindi alla preghiera dei salmi la preghiera di lode San Benedetto dirà nulla si anteponga all'opera di Dio e quindi la preghiera al primo posto credo che la clausura oggi abbia questo significato un richiamo quindi alla vita eterna un richiamo ad un ordine spirituale della quotidianità un richiamo a valori che oggi sono purtroppo disprezzati ma noi non siamo di questo mondo e quindi noi invece li apprezziamo e cerchiamo di lavorare per il regno dei cieli un saluto e ringrazio padre Salvatore Mallemi per questa intervista io ringrazio voi per la disponibilità e per questa bella opportunità un saluto a voi tutti da Vincenzo Lacognata che vi augura buon proseguimento con i programmi di Radio Caris in Blu avete ascoltato Voci della Chiesa Iblea un programma della redazione di Radio Caris in Blu Ragusa Grazie a tutti 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 Grazie a tutti